Benvenuti, il portale del Mimit per i radiomatori è accessibile all'indirizzo appradiomatori.invitalia.it È consigliato l'uso del browser Chrome. L'autenticazione al portale avviene tramite SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Utilizzando SPID ad oggi la forma più diffusa, selezionare SPID, e il proprio gestore d'identità personale. Attraverso il sistema di autenticazione autorizzate il gestore alla trasmissione dei vostri dati al portale. Siete ora stati reindirizzati al portale e potrete quindi ora istruire una nuova domanda o verificare lo storico delle domande già presentate. Selezionando l'icona utenti in alto a destra avrete conferma di essere stati correttamente autenticati e potrete uscire dalla piattaforma. Grazie a tutti.